ciao buongiorno iscrivetevi sul mio canale youtube franco tonto la trovate fate conoscere il canale e che dire altro oggi è gran caldo qua un falcone 32 gradi wow 225 oggi mi riposo domani sono ancora a lavorare dopo una settimana di fare yahoo spero che state bene iscrivetevi al canale saluto a tutti mi raccomando a tutti tra la gente e la lettera loro nuove saluti i miei amici i miei parenti i miei follower voi arrivare a 100 entro l'anno ancora grazie grazie di cuore fate i bravi iscrivetevi franco tonto su youtube mi raccomando ciao a tutti e buon febri agosto mi raccomando e buonanotte ciao ciao